ben trovati alla litigia express di micras 23 di macchia sol meso manco las 2 miglia saluti lusamici catalans sigla onoranze funebri rompura discrezione professionalità rispetto ed edizione domenica 27 la comunità di macchia algero 1 organizzate la giornata di solidarietà per la spazzone spocca sfortunata la comunità è sconvita a tutti presenta le nostre amiche amici anzianze del centro residenziale per anzianze dell'allie l'associazione pensiero felice l'unità calci e laboratorio arte creativa caritas di san paolo tutti gli assistenti volontari e accompagnatori appuntamenti all'incontro a rasdeo del maiti ai campi maschi a misdia la santa missa legono pranzo seguiti dell'intrattenimento musicale divaltimenti del canto dottor algeris angelo maresca sempre a domenica 27 a casa gioiosa nel palco del polti conta una recita di i barbagialli artù e i cavalieri senza testa una storia che vos accompagnerà durante la degustazione a base dei prati realizzati di azienda titolarsi del mal che dei qualitati del palco pur io visitare il museo multimediale della memoria calceraria e la mostra d'arte del partito princip a malas l'opera dell'artista elio puli di vendas 25 della sedeo del maiti stefano grassi classe 1947 tentara anche già lo record del periplo della saldegna lo giro della saldegna a 15 dias lo farà a completo autonomia senza nessun aggiunto e non si gara seguiti di niente la partenza del vertiglia della praga affronta i campi di laguna stefano ha fatto l'impresa in saldegna e colsica 15 volte anche quella della madarena isola compresa 9 volte l'isola d'elba 2 volte l'isola eulia maratona dell'adriatic la vogalonga di venezia e lo girus della zizura slofoten nell'artic ora vi ho la regia e le gottine mandiretta il pane di tutti i giorni cotto anche col forno a legna farinelli fresco market anni malandia laghi di satta 26 di maci di rasdeo del maiti finse l'assizio di ratalda il carri di vaivelt satangara acqua party si gara un grande valdiment amoruggiozze di agua per los nostros compagnons acqua trancas tozzi podan partecipa amal propi cuccio l'evento scurati di jasmin di napoli con la collaborazione della dottoressa tiziana d'alersi e raffaella de rosa durante la giornata li seguirà un petit ristorio un pultant non sono amittiz los cuccius ancora ulls e non socializzats a irrelatare il desmancato giovanino caria in questi ultimi 3 mesi mi sbaglievano cara di l'unz al centro residenziale per gli sanziani per preparare una corale anche ai ragazzi dell'amministrazione l'entusiasmo di lei era tale che mi diceva sempre che erano tornati giovani con cui cantavamo il coro barcellonetta di Natale Leone di l'unz passato quando li ho visto in sara e ho spiegato mi hanno detto che erano disposti giovanino vuol dire che la tua parte la cantare io ormai io volevo poco e poco attenzio per i concerti di presentazione mi mancherà una frase alla famiglia di parte della redazione di Agliero Channel per qualsiasi vostra interazione fu una sua domanda mi vorrei contattare la pagina facebook di Agliero Channel a mi vivere per qualsiasi vostra interazione